Ponte, mareggiate, covid. La Liguria ne ha passate tante. Dopo due anni dal crollo del Morandi, la speranza è che l'apertura del nuovo viadotto sul Polcevera possa aprire una nuova fase per Genova e per l'intera regione. I dati anche di tipo economico non sono ottimi, anche l'ultimo rapporto della Banca d'Italia sulla regione Liguria ha messo in evidenza varie situazioni di crisi e quindi speriamo che si apra una nuova fase. Con il nuovo ponte miglioreranno la competitività e l'accessibilità a Genova, prosegue Gastaldi. A cascata dunque si avranno benefici anche in tutti i quartieri dell'area. La Val Polcevera è un territorio molto martoriato, è un territorio che ha subito più di altri la pesante crisi legata all'industria. In parte le riconversioni sono avvenute negli anni 80 e 90, ma c'è ancora molto da fare con molte aree vuote, sottutilizzate, problemi di qualità ambientale, di qualità della vita che dovranno essere affrontati. Può essere un elemento importante per attrarre nuova popolazione, anche popolazione in fasce di età giovanili, che possono essere attratte dal clima, dalla vicinanza con la riviera Ligure. I lavori di costruzione del nuovo viadotto sono stati rapidi. Il cosiddetto modello Genova fa discutere, dice però Gastaldi, perché è applicato in deroga a tutte le norme ordinarie e ai principi di libera concorrenza. Quindi sì, spiega, si può usare, ma non per tutti i casi. Io lo vedrei come una limitazione a alcune opere molto, molto nevralgiche di vero interesse nazionale, non una diffusione a tappeto. Il nuovo ponte sarà decisivo a livello nazionale perché unisce vari tratti di autostrada, ma la Liguria soffre 50 anni di ritardo a livello infrastrutturale, conclude Gastaldi. Forse la crisi, la crisi anche post-covid e la crisi economica ci aprono delle nuove prospettive e quindi bisogna un po' riconcettualizzare tutto alla luce di questa nuova epoca. Non siamo più a 30, 40, 50, ma nemmeno a 5 anni fa. Bisogna ristudiare e riverificare un po' tutto. Grazie.